Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi, quest'oggi concluderemo anche il mese di gennaio con la partita contro i Barrow e soprattutto, teoricamente, l'ultimo giorno di calciomercato mercato che ci ha visti sicuramente poco protagonisti siamo riusciti semplicemente a riscattare Gabbert da Manchester United che è stata comunque un'operazione molto importante e significativa poi ragazzi, sicuramente affronteremo i Masfield e se non succede veramente nulla all'ultimo giorno di calciomercato come credo che effettivamente sarà affronteremo anche Gillingham quindi ragazzi, altre tre partite molto importanti che potrebbero avvicinarci sempre di più a una possibile promozione ma come al solito, ragazzi, prima di incominciare a giocare vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità e a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo e come sempre in descrizione ma anche a sostenere e supportare il canale tramite una donazione, grazie al link che è in descrizione benissimo ragazzi, detto ciò come al solito possiamo andare in campo Safford City contro Barrow all'andata abbiamo clamorosamente vinto con una partita veramente pazzesca quest'oggi ragazzi possiamo permetterci la miglior formazione possibile quindi abbiamo Poppa, Serkin, Terns, Phillips e Bolton Wout, Galbret e Ba Simoesh, Morton, Belli io continuo a dire miglior formazione possibile anche se io effettivamente non ho degli undici prediletti perché ci sono dei giocatori che vanno sempre a periodo per esempio adesso Galbret sta giocando bene quindi secondo me non bisogna tenerlo fuori quindi ragazzi Galbret al centro campo per il resto ragazzi tutto a posto possiamo scendere in campo e oggi possiamo subito avanzare Galbret tiramante Simoesh si è inserito benissimo ma calce in un modo inguardabile anche Mr. Beckham qui si lamenta e oggi ragazzi possiamo avanzare Galbret c'è Simoesh che può andare vediamo un po' Simoesh prova da Zalla molto bene per Morton che non la prende ok se l'è lasciata scorrere ok FIFA e oggi ragazzi Gordon Gordon il barro prova a rendersi vericoloso Gordon che ricordo ci segnò all'andata tra l'altro andata che abbiamo visto poche partite fa quindi ce l'ho ancora veramente limpida in testa comunque occhio ancora che attaccano non riusciamo a togliere il pallone ovviamente in questi casi arriva il gol schematico preciso e occhio ragazzi possiamo avanzare Galbret in avanti Simoesh dai Simoesh corri Simoesh corri che sei bello veloce vai subito dentro bellissima non ci credo ragazzi ma non possiamo mangiarci questi gol già fatti niente ragazzi peccato termina anche il primo tempo il barro e il vantaggio sull'unica azione fatta praticamente dove diciamo era palese ed evidente che dovevano far gol comunque ragazzi abbiamo avuto la chance clamorosa per segnare però Belli praticamente a porta vuoto ha calciato fuori cioè ragazzi quando è così veramente sono impotente e occhio qui Sorkin che va a vuoto palla dentro Turns che non la prende popa la blocca ragazzi però vedo cose veramente brutte oggi che mi infastidiscono come poche cose al mondo occhio Morton l'alza non ti permette ad alzare quella bandierina vai lì possiamo avanzare va all'arca per Simoesh possiamo andare dentro Galbret l'appoggio dentro Morton grandissima azione solo così si poteva segnare quest'oggi entrando con tutti i palloni in porta in pratica comunque ragazzi provo anche i cambi adesso bisogna spingere Touré in difesa Wharton al centrocampo in attacco McKinley Hackford e Vail forza ragazzi occhio arriva l'errore McKinley col pressing riesce a recuperare palla Hackford dentro subito verso Vail che riesce a passare con il rimpallo Vail attenzione Vail l'appoggio dentro no ha ritardato il passaggio c'era Wharton solo lui clamorosa occasione ovviamente le cose di prima non si possono fare comunque la palla è ancora recuperata ma sbagliato quel colpo di testa e occhio ragazzi pari in avanti McKinley non riesce a fare il filtrante come sempre vent'anni per una cosa del genere attenzione però ok che prova il tiro qui Popo forse poteva addirittura bloccarla alla fine deve metterla in calcio d'angolo sempre strane queste cose purtroppo se l'avesse bloccata adesso potevamo ripartire magari tentare un'altra azione invece adesso abbiamo rischiato di perderla questa qui potrebbe essere un'altra cosa strana di FIFA perché devono segnare mi auguro di no perché si calci d'angolo mi preoccupano sempre tanto comunque ragazzi attenzione Popa può andare in avanti d'Hackford che bello fresco deve correre Hackford no Vele si è fermato ma che senso c'ha ma che senso c'ha può andare in campo aperto può andare in campo aperto FIFA fischia arbitro controonda ragazzi stavano a centrocampo era già finito imbarazzante adesso voglio ripartire ovviamente non si riparte questa partita FIFA si è messa con l'impegno per non farcela vincere comunque l'importante era non perdere punto che ci può stare tutto sommato alla fine Barro è lì quindi riesce a pareggiare con una diretta concorrente anche se una partita molto scriptata ragazzi però ragazzi va bene così dai tutto sommato lo Stockport pareggia ancora anche lo Stockport ragazzi ma quanti pareggi consecutivi che ha fatto lo Stockport ma soprattutto anche le altre squadre continuano a pareggiare siamo veramente tutte lì e tutte che abbiamo questo andamento quindi alla fine diciamo che è anche inutile lamentarsi in un certo senso perché appunto tutte facciamo la stessa cosa comunque ragazzi adesso giustamente c'è da farsi l'ultimo giorno di calciomercato io raga ovviamente me lo faccio eccola qui cos'è ragazzi eh Turei aveva una clausola pagata dall'Oviedo what le cose della dirigenza lì che improvvisamente scendono sono primo che cavolo volete perché no ragazzi che sta succedendo si sta pagando tutto cioè in realtà no perché effettivamente se c'è una clausola ma non lo sapevo ragazzi ve lo giuro clausola recissoria Turei un milione eh io perché non ci faccio mai caso alle clausole recissorie devo farci caso e come comunque ragazzi comunque la clausola è pagata ma se gli faccio il rinnovo vediamo un attimo ragazzi perché sinceramente non vorrei perderlo a Turei perché è un giocatore molto prezioso poi dovrei andare a prendere un sostituto che non so dove andare a prendere quindi raga proviamo a fare il rinnovo così proviamo a diciamo a fare i furbi ok il rinnovo che va in porto e adesso ragazzi non so come andrà a finire vediamo un attimo c'è una mail e da questo messaggio di Turei penso che dovrebbe esserci lieto fine quindi ragazzi tutto a posto ehm non dovrebbero esserci più clausole ok ragazzi piccolo spavento però ragazzi un'altra curiosità perché lì sono sceso sarà sicuramente qualcosa in caso che riguarda gli obiettivi fatemi vedere perché in questi casi FIFA è divertente fai giocare almeno il 30% di partite della stagione seguente da almeno un giocatore del Vivaio acquistato nella prima stagione questo qui non lo faremo l'anno prossimo poi ottene 15 partite segnate almeno un gol in casa questa stagione ottene 15 partite segnate almeno un gol in casa questa stagione ok dovremmo farcela mancano 5 partite raggiunge gli ottavi in FA Cup ma l'ho fallito da un pezzo sono primo in campionato vende due giocatori e comprane uno importante per rimpiazzarli vabbè ragazzi i classici obiettivi di FIFA che diciamo sono abbastanza insensati non ha senso provare a farli fino in fondo diciamo applicarsi tanto ragazzi alla fine è FIFA dai purtroppo ragazzi è una modalità che non è curata sono cose che diciamo da anni quindi si notano soprattutto in questi dettagli che tu cioè tu sei primo stai andando benissimo e comunque la dirigenza è scontenta perché perché non è preso un giocatore in più che secondo l'oro era importante ragazzi è realistico e non c'è il minimo senso comunque arriva un'offerta per l'U la parte del Sandhausen che è ovviamente un club tedesco l'U ragazzi che è un cdc è un 65 ha 31 anni ed è per questo che sinceramente andrei a trattare però vado a chiedere più di 600.000 euro provo a fare addirittura 6.50 vediamo che ci rispondo un'avanza offerta accettano subito a prescindere ok ragazzi non lo so ma può essere che FIFA ci dice che potevamo chiedere addirittura un milione però lì stava scritto massimo che era 5.70 5.20 ragazzi non lo so comunque a parte tutto manca semplicemente un'ora quindi la vedo veramente complicata che la trattativa possa andare in porto e non si sa tra l'altro non possiamo saperlo ok arrivano le mele infatti ragazzi stop le trattative perfetto ragazzi piccole distrazioni di calcio a mercato comunque andiamo avanti che a parte tutto voglio fare tre partite quindi ragazzi andiamo in campo South for City contro Massfield dall'andata addirittura 5.0 quindi vediamo adesso che partita sarà mi aspetto veramente di tutto veniamo da un pareggio quindi vediamo un po' FIFA come si comporterà e comunque Poppa sempre fra i pali poi Sirkin Turns Phillips e Bolton quindi difesa invariata centrocampo con Wout Ba e Wharton quindi gioca Wharton a posto di Galbraith in attacco Simoesh Bailey e quest'oggi voglio partire con Hackford da primo minuto e oggi subito Hackford in avanti ottima per Simoesh attenzione Bailey come all'andata Bailey che all'andata fece addirittura un poker e quest'oggi arriva a segnare ancora un gol contro il Masford che evidentemente se lo sogna anche la notte nei suoi peggiori incubi comunque si sblocca subito la partita grandissimo inizio la mia squadra che scatta si inserisce alla perfezione tutto un altro gameplay ovviamente a questo punto ragazzi mi viene proprio da pensare che FIFA non ci penalizzerà nel senso ci farà salire in Ligue 1 forse addirittura ci farà vincere anche il campionato su questo sono ancora insicuro però proprio perché c'è questo andamento stranissimo del campionato dove nessuno riesce ad essere continuo dobbiamo fare la stessa cosa pure noi quindi ci fa fare qualche sconfitta qualche pareggio dopo qualche qualche vittoria quindi ragazzi è tutto un po' particolare intanto ragazzi super parata di Popa ma occhio ragazzi non ci credo ragazzi che cosa ha preso Popa qui miracolo miracolo del nostro portiere un gol già fatto ero già rimasto pietrificato dal pareggio che era veramente già fatto e oggi ho qui ancora pensavo potesse essere fuori gioco ancora Popa ragazzi che sta combinando quest'oggi Popa super Popa che avrà un nome abbastanza ridicolo però è veramente un fenomeno ragazzi è diventato anche un 69 speriamo che possa concludere l'anno al 70 qui intanto vai lì che spacca il palo com'è possibile come si fa a non segnare in questi casi dai ragazzi cavolo e occio ancora Popa ancora Popa questa volta su McLaughlin ragazzi oggi è veramente la sua partita tutto un altro Mansfield rispetto all'andata ci può anche stare nel senso è ovvio che siano migliorati in un certo senso comunque ancora Popa che para ragazzi è un miracolo che siamo ancora 1-0 oggi no che cos'è questo passaggio che cavolo hanno combinato perché passarla in quel modo e a quel giocatore attenzione McLaughlin a primo tempo scaduto Bolton arbitro arbitro non lo devi far battere però sempre la stessa cosa vediamo un po' palla al centro Sirkin libera e forse ci siamo ok fine primo tempo 1-0 all'intervallo per noi ma decisamente meritato eccolo qui il nostro migliore in campo e occhio ancora Mansfield palla dentro ancora ragazzi Popa che se la ritrova pure lì cioè c'è la calamita a sto ragazzo quest'oggi e occhio e siamo in avanti addirittura Watt che avanza l'appoggio per BAH che prova a calciare di potenza finalmente un bel tiro anche da parte sua ma arriva la varata del portiere occhio Watton recupera un buon pallone c'è Simosh che può avanzare ancora l'appoggio per Watton che senza aiuto Watton Watton prova a calciare direttamente in porta che disastro e occhio ancora Mansfield Tons non la prende Tons non la prende e vabbè giustamente spingi spingi in Mansfield riesce a pareggiarla ecco cosa si suosa succede a mangiarsi i gol del 2-0 e beh lì che becchi il palo come fai a beccare il palo però qui ragazzi non c'ha senso che Tons non la pigli comunque ragazzi cambi metto l'u al centro campo semplicemente perché mi ha chiesto di scendere in campo poi Gabret a posto di Ba e in attacco McKinley Morton e Vail però ragazzi questo gol mi demoralizza molto vi dico la verità e occhio Morton prova subito a servire Vail che riesce a girarsi attenzione Vail in area Vail prova a calciare direttamente in porta arriva il miracolo del portiere che peccato e occhio ancora no ragazzi no madonna poppa ragazzi madonna madonna cioè sono quelle partite vedi che rischi di perdere alla fine perché non riesci a chiuderle ragazzi oggi non me la piglio manco con FIFA perché dovevamo fare molto di più però qui ragazzi attenzione che McKinley può provare a farci ripartire in contropiede vi prego scattate da quell'altra parte McKinley non farti recuperare McKinley McKinley vai dentro ti prego ti prego ti prego Vail no chi è Morton 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 2-1 2-1 2-1 meno male ragazzi un altro pareggio un altro pareggio non ci voleva meno male Morton 2-1 proprio nel finale qui c'è stato questo piccolo errorino difensivo da parte del Masfield siamo riusciti a ripartire soprattutto a sfruttare la freschezza di McKinley che giustamente è arrivato fino sul fondo il tocco dentro e Morton a porta vuota col mancino non può sbagliare 2-1 dai ragazzi tre punti pesantissimi dico tre punti pesantissimi perché praticamente ragazzi è finita giusto perché ora batte e tu fischi vero arbitro no ok adesso fischia benissimo ragazzi 2-1 che vittoria bello però ragazzi vincere in questo modo molto più sofferto in tutti i sensi però perché comunque è pesante comunque ragazzi comunque ragazzi ovviamente questa vittoria è di Popa lo stockport pareggia ancora Popa ragazzi ha fatto dei miracoli incredibili quest'oggi anche lì sul finale poteva passare in vantaggio il masfield quindi è tutto merito di Popa che oggi si è superato comunque vabbè la barra lì continua a scendere ma va a finire che mi esonerano per fine anno io la proprio prendo il disco faccio il video che lo spezzo in due e basta non faccio più video e quindi ragazzi terza partita di oggi però prima uno sguardo giustamente alla classifica ci sono Newport e Donchester che hanno già giocato quindi ragazzi teoricamente adesso siamo a più 5 dallo stockport lo stockport se vincesse la sua partita andrebbe a 53 quindi noi in caso di nostra vittoria saremmo comunque a più 5 quindi raga la partita di oggi è veramente molto importante per provare effettivamente per la prima volta a mettere diciamo delle distanze fra noi e le altre comunque formazione popa surkin league posto di tronzo perché mi ha chiesto di scendere in campo philips e bolton centrocampo watt wharton e stavolta gioca galbraith in attacco simoes morton e voglio mettere veil da primo minuto quest'oggi e occhio ragazzi c'è la possibilità di segnare per inghillingham che ci riesce rovesciata addirittura gol molto particolare volta football veramente qua a parte che mi sembrava fuori gioco e poi vabbè fare un gol in rovesciata da quella distanza è veramente irrealistico sinceramente dai e occhio simoesce prova il kickoff simoesce simoesce è passato simoesce simoesce prova a calciare niente ragazzi cioè non posso fare i kickoff glitch che calcio direttamente perché poi capitano ste cose e occhio ragazzi forse possiamo avanzare galbraith deve far correre veil che prova a sterzare veil non passa ma la palla arriva morton che peccato qui se la palla arrivava simoesce era perfetto comunque wharton prova addirittura a calciare viene rispinto ma siamo ancora lì c'è galbraith galbraith in avanti a cercare ancora veil appoggio dentro per morton tira subito galbraith tira subito ovviamente su questo gioco non è possibile e termina anche il primo tempo se galbraith li avesse calciato di prima intenzione forse avrebbe avuto più possibilità di riuscire a segnare ovviamente comunque ragazzi che ci possiamo fare siamo sotto anche quest'oggi ma ormai abbiamo dimostrato di saper rimontare e occhio ragazzi che si riparte subito con un calcio d'angolo what col destro la mette dentro verso morton che giustamente perché lo mettono sul primo palo non è altissimo morton comunque wharton non riesce a calciare la palla rimane pericolosamente lì ma oggi non si vince mezzo rimpallo occhio qui c'è spazio per il gillingham il tiro fortissimo ragazzi un altro miracolo da parte di pova ragazzi ma ovviamente sono più complicate queste partite con le squadre che non lottano per attenzione la rovesciata che non lottano per salire che quelle che lottano per salire ragazzi ma come giocano ma come giocano cioè io in champions non vedo squadre di questa qualità veramente incredibile prima cioè gol l'ha fatto in rovesciata questo cioè ragazzi in serie di inglese praticamente dai non scherziamo raga provo subito un doppio cambio fidatevi cambi due esterni vediamo che succede però 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 prima dei cambi prima dei cambi ancora una grande chance per il Gilligan per raddoppiare attenzione è passato Morton prova dal Zala per Velo ovviamente non ci arriverà e ovviamente è così e ovviamente riescono a salvarsi per millimetri perché un pochino più là e vince come giù in pallo ma oggi non si può e oggi questo mi sembrava fuori gioco no secondo FIFA un altro miracolo da parte di Popa ed attenzione che si riparte Morton non era per Simoes era per Vortone che poi doveva darla a Simoes che a sua volta scattava va bene FIFA comunque qui gran palla Vail che si ferma ma è comunque buona per Morton che non riesce a mettere dentro ti prego Cabret di testa che non ci arriva niente ragazzi oggi non si può è già scritto che questa partita non si può vincere e a sto punto ragazzi faccio entrare anche Hackford Ba e Turei e occhio al corner what in mezzo di testa non ci arriva il nostro tensore tira 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 beh lì che si è mangiato beh lì ragazzi e occhio che si riparte Hackford prova ad alzare ti prego McKinley arriva ci ci arriva ci arriva McKinley passala 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 no ragazzi non ci credo ragazzi non ci credo non ci credo no vabbè ragazzi posso già uscire dalla partita se non si segna anche in questo modo vuol dire che non si può e va bene non c'è problema FIFA ha voluto farmi perdere e noi accettiamo questa sconfitta tanto ormai è una prassi che bisogna fare una vittoria un pareggio o in questo caso una sconfitta ovviamente la partita è finita ma FIFA fa battere il calcio d'angolo vuoi farmi prendere anche il secondo gollo FIFA no è finita arbitro sì brutta sconfitta ragazzi io ci ho provato in tutti i modi ma oggi proprio non si poteva e quel passaggio di McHale a 2 all'ora è la prova ovviamente ragazzi io premo X più di premere X in questi casi non si può fare quindi ragazzi è proprio chiaro che non si poteva e ragazzi oggi non provo una puntata brillantissima e comunque ragazzi a parte tutto concludiamo questa puntata al primo posto in classifica certo ragazzi potevano essere di più i punti di vantaggio però vedo che Newport ha ancora una partita in più ed è la ferma a 52 vuol dire che ha pareggiato niente ragazzi c'è una pareggita incredibile in questo campionato c'è un virus clamoroso comunque vabbè ragazzi che dire appunto concludiamo sempre a primo posto lì ragazzi continua a scendere il coso dell'allenatore in questi casi veramente non so che dire FIFA l'unica cosa che posso dire è FIFA comunque ragazzi prossima puntata che ci vedrà concludere anche il mese di febbraio affrontando lo Stevenage il Colchester e poi arriveremo a marzo dove affronteremo il Liedon Orient e quindi ragazzi io per oggi mi fermo qua come al solito mi muto lasciando un mi piace iscrivetevi al canale lasciami sulla pagina Instagram a sostenere il canale tramite una donazione noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie.